ehi amici finalmente c'è un nuovo scandalo in città oh mancava non aspettavo altro dico la verità speravo uscisse un qualcosa di scandalo un nuovo scandalo che mi potesse dare in un qualche modo la possibilità di fare questo genere di video anche perché è questo che va in questo momento per forza di cose l'unica cosa che fa venire fuori un pochino il sorriso ai tifosi juventini in questa sessione di calcio mercato completamente morente sono proprio questi video dove nonostante tutto si può assaporare il disagio che nonostante tutto ancora circola nell'aria nonostante che i proprietari di questo disagio nonostante tutto abbiano il tricolore sul petto ma vabbè effettivamente non è una novità ecco questo non lo scopriamo di certo oggi e quindi a me fa piacere essere qui con voi e prima di iniziare però come al solito per un nuovo scandalo lasciate un bel mi piace con la speranza di averne uno nuovo nei prossimi due tre giorni insomma e per chi ancora non l'avesse fatto iscrivetevi perché quello è semplicemente importante detto questo premessa e partiamo e come avrete intuito si parla di da zone dell'emittente che trasmetterà tutte le partite della serie a dopo che l'anno scorso ha fottuto sky e sapete nel momento in cui tu devi lanciare le campagne pubblicitarie affinché comunque incentivi in un qualche modo la gente ad abbonarsi alla tua piattaforma o devi utilizzare tutti i metodi possibili solo che ovviamente da zone ha deciso di utilizzare il modo più tremendo più brutto di tutti boia dei fagiolini perché ha deciso di lanciare la campagna pubblicitaria così con chiesa con il tricolore sul petto juventus in primo piano la prima immagine quantomeno più che in primo piano la prima immagine e questo non è accettabile diciamoci le cose come stanno non è minimamente accettabile perché infatti sbaglio o state diventando da zone juve io mi auguro voi abbiate visto come ha scritto o con maglie bianconere con il tricolore eccetera ditelo così non rinnovo direttamente cominciamo con il lechinaggio anche voi di da zone avete visto che fino a fatto sky con gli abbonati occhio che si fa presto a tornare nelle stalle a per forza che sky con gli abbonati è crollata nel momento in cui non ha più nulla praticamente in esclusiva stupirebbe anche il contrario visti i costi però per qualcuno effettivamente può stupire vedendo che comunque il livello è quello lì e quindi tocca accontentarsi insomma no ma non è successo mica niente è così normale che nel 2021 ancora iniziano le annate con le immagini dell'anno prima volute e non a caso con una squadra scolorita sempre in prima fila prostituzione intellettuale è stato bravo ha scoperto che di solito nelle campagne pubblicitarie utilizzano le immagini degli anni precedenti che sarebbe strano anche il contrario no soprattutto quando ci si lamenta dell'inter che non ha il tricolore sul petto quando praticamente la maglia è stata annunciata dieci giorni fa al massimo e penso che la campagna di da zone sia uscita un pochino prima a grandi linee visto che devi iniziare a vendere gli abbonamenti per la nuova stagione così ma queste sono sensazioni prettamente personali io sono un abbonato dal day one a 9 99 ed ero molto contento che la serie era passata a voi ma ho interrotto il mio abbonamento finché non vi scusate per il cartellone pubblicitario dove si vede la juve con lo scudetto invito gli interisti a farlo cambiate subito il cartellone o disdico l'abbonamento boicottiamo questi vermi devono fallire in italia c'è troppa libertà troppa sì oggettivamente lo sto vedendo ma grazie comunque per averlo ribadito effettivamente è un messaggio importante questo che deve assolutamente passare c'è troppa libertà merda e zerbinata al potere forza pezzotto da zone fatto una porcata creando un danno di immagine ancora prima di partire con la stagione calcistica se il buongiorno si vede dal mattino ci fa capire come vivrete anche la prossima stagione nonostante siate freschi campioni d'italia se il buongiorno è questo effettivamente il problema è veramente esagerato perché io magari adesso vi rimetto l'immagine da cui fondamentalmente è partito tutto e come potrete aver tranquillamente intuito l'inter la lazio il torino utilizzano le maglie della scorsa stagione anche perché sapete se queste squadre nella stagione appena finita durante le ultime partite magari non indossano le maglie nuove fanno fatica magari no quelli di da zone a mettere le immagini dei giocatori che indossano alla nuova maglia se ancora le nuove maglie non sono state indossate infatti non a caso le uniche due squadre con la maglia nuova presente nel cartellone pubblicitario sono la juventus con chiesa dove in quell'occasione esulta per il gol in finale di copitalia eto hernandez perché anche il milan nelle ultime partite ha utilizzato la nuova maglia io effettivamente posso capire che sia molto difficile da capire tutto questo però porco giuda far partire scandali così presto e soprattutto per il nulla cosmico mi sembra un attimino esagerato anche perché banalmente si potrebbe dire che sai nel momento in cui devi vendere un pacchetto a più persone possibili ci può stare mettere in prima fila il giocatore della squadra che ha più tifosi in italia alla fine se tu cerchi il massimo numero di bacino d'utenza magari ci può stare no puntare sulla squadra col maggior bacino d'utenza però niente è sempre meglio scandalizzarsi con Dazon giustamente perché nonostante tutto doveva mettere Lukaku in prima fila con la maglia nuova e il tricolore nonostante che Lukaku la maglia nuova con il tricolore non l'abbiamo indossata ancora meraviglioso semplicemente meraviglioso a me per esempio mi ha fatto più strano vedere lì mezzo Belotti ecco mi sarei aspettato non lo so un Insigne un Zapata un Muriel cioè insomma uno del Napoli uno dell'Atalanta insomma non Belotti però effettivamente a ognuno scandalizza quello che scandalizza giusto perché poi scandalizza ma mi ha semplicemente fatto strano loro invece insomma adesso prima di rinnovare l'abbonamento devono vedere le nuove campagne pubblicitarie perché insomma sia mai magari continuano su questa falsa riga se magari invece per inizio agosto fanno uscire un nuovo cartellone che c'è Barella o Lukaku con la maglia tricolore dell'Inter in quel caso assolutamente sì anche perché giustamente adesso inizieranno a fare anche loro le prime amichevoli e quindi avranno la possibilità di fare un nuovo design per il cartellone pubblicitario così tutti con le nuove maglie tutti quanti contenti tutti quanti felici però rimarranno comunque tutti quanti disagiati e ho deciso di mettervi veramente 5 6 commenti no forse un pochino di più però nel senso pochi anche perché insomma sono tutti monotoni potevo metterne anche 52 ma se dicono tutti quanti la stessa identica cosa almeno ho scelto quelli che sì il messaggio di fondo era lo stesso però il contenuto è stato esposto in un modo un pochino diverso e mi auguro che il video vi sia piaciuto perché appunto nuovi acquisti la prossima volta nuove sessioni la prossima volta e quindi insomma perché non parlare di questo va più che bene così infatti io mi auguro che il video vi abbia intrattenuto a dovere io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao ciao Grazie a tutti.